Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Black Knight e oggi siamo qui in un nuovo episodio di Clash Royale con... Miranda84 Olè ragazzi, l'abbiamo già vista nella botta, il Flip Challenge è stata molto brava, ma oggi la vedremo Cioè non la vedremo perché taglierò il pezzo, se no il video diventa troppo lungo Ma lei costruirà un mazzo tutto da sola, senza che io gli tocchi il tablet E dopo la userò per fare una partita Dopo tu Miranda vuoi fare una partita tu? No Ah, dopo io Black Knight la userò per fare le partite e cercherò di vincere Vai Miranda, sai cosa devi fare? Perché te l'ho già spiegato un'altra volta Però ragazzi, vi taglierò questo pezzo, come vi ho detto prima Ok ragazzi, Miranda ha appena finito ed ecco qui il nostro mazzo Io non gli ho consigliato niente, gli ho solo detto di mettere rare, comuni, epiche o leggendarie Tranquillo al cimitero Quindi il mazzo è questo qui, salutiamo Miranda che io ora giocherò Addio Allora, ciao Miranda84 Allora, ora giochiamo in pace Battaglia Ragazzi, sono teso perché è la prima volta che faccio un draft Oh, se la prima la vinco Smettiamo subito di registrare e via Tra l'altro dopo vi faccio vedere una cosa Allora, cavaliere di quando le fredde, di quando la torre ce le sei Oh, bene Cimitero Il zappo è pronta Dai però, se non giochi Ok ragazzi, questo qui non gioca, allora vi salto Ok, ho appena vinto È perché ragazzi, questo qui non giocava, allora ve lo volevo togliere per non sprecare tempo Comunque, facciamo un'altra battaglia e via Sperando sempre che questo qui giochi Perché, dai Allora, andiamo subito cattivi di cimitero Ma sì, dai Zapp pronta Il coso Non ha fatto danni la cimitero Cioè, ne ha fatti un po' Ma ne... Zero proprio Cioè, zero Ah, lo sapevo che avevi gli scheletrini Brutto Il fame Ti metto il cavaliere qui Il cavallerizzo No La scintilla, aiuto Potrebbe essere un piccolo problemino Ma noi la contrastiamo con lo stregone e gli spiriti E la zappa No Ci ha fatto il danno Non ci fa l'altro danno Non è l'isir Non è l'isir Non riesco a contrastare la scintilla Eh, vabbò E dai Ma sta ancora in piedi La scintilla è forte La vorrei trovare Turudu Fighissima Bello Vediamo Oh Dieci secondi Eh Guardate che numero Altissimo Ah Qui c'è il 56 Sì Ah, mi ha messo il gigante Non me ne racconto Ha messo la combo più letale di tutte le combo Paraparaparà Paraparà Questo deck fa ufficialmente schifo Ma ufficialmente è nel senso che è ufficiale Vai cimitero Puoi fare tu qualcosa per noi Niente Vabbò Ma cosa ti ridi Non è colpa mia Se Se Miranda ha scelto un deck così strano Oh Un bel livello 9 Fantastico Vero Allora È impossibile vincere Tanto che cavolo si può fare contro Ha sprecato il 6 Alessio Oh Oh mio dio Quanti danni Oh mio dio Abbiamo tirato giù la torre Ora ragazzi Solo sulla difesa Ce la possiamo fare? Direi di sì Showtime Che significa? Show Significa tipo Show Azione Boh Non so Quindi Forse Showtime È il tempo di entrare In azione Quindi Tempo di farlo show Showtime Mi sa Oddio Mi son difeso bene Però non benissimo Proviamo un altro Non mi piace Non mi piace Per niente La mia torre Mi sa maluccio Direi di attaccare No 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 Perché Perché ho fatto sto sbaglio Ho fatto uno sbaglio Grandissimo 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 Ma va Un'altra E me ne E me ne tiri un'altra Oh mio Oh mio Dio Mi fa danno Oh mio Dio No 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 Eravamo partiti bene Perché Ce la possiamo fare Dai ce la possiamo fare Vai Vai Cavalierizzo Basta Basta Torre bombardiere del cavolo Ora te le sotterò Quelle cavolo di torre bombardiere Ti romperò Tutto Tutto nel mondo Nella vita Tutto Vai Andate Tre palline Oh mio Dio 83 9 8 7 6 Oh mio Dio Come mi sono salvato Oh mio Dio Come mi sono salvato Ok ragazzi Facciamo così C'ho un'idea Dividiamo questo draft In episodi Quindi questo sarà l'episodio 1 Farò gli episodi Fino a quando Non riuscirò A Vincere una partita Quindi Ciao a tutti